Ma bella a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in questo nuovissimo video. Ebbene sì, come avete letto dal titolo, sono finalmente arrivata al Rank Unreal nella nuova stagione 4 di Fortnite. E vi posso dire che sono la seconda ragazza al mondo, dopo la nostra Croatomist, ad aver raggiunto questo Rank. Quindi sono molto soddisfatto, ho fatto una bellissima scalata insieme a Martina. In questo video vedrete le due partite che mi hanno permesso di arrivare al Rank Massimo, al Rank Unreal. E sono due vittorie veramente devastanti. Mi raccomando, pollicione in su sotto il video, ti vedo, mettilo, mettilo, mettilo. E soprattutto iscriviti al canale se non sei ancora iscritto, attivando la campanellina per non perderti i futuri contenuti del canalozzo. Ti ricordo che in descrizione trovi tutti i miei social, tra cui Twitch, dove sono in live tutti i giorni dalle ore 17. Quindi ti aspetto per un saluto anche di là. Mi raccomando, nei commenti scrivimi il tuo attuale Rank nella Season che ovviamente ti leggo. Ora però non voglio farti perdere troppo tempo, quindi via con le partite. Oddio, lascio il singolo viola. Ho trovato il tre colpi viola. Erano lì davanti a te, esatto. Vabbè. Uno di vita, uno di vita. C'è un altro. Fis. Ficca, sono da te. Scappato, scappato, morto. Sono un fenomeno comunque. E l'altro qua dentro? Impulso, impulso da sotto. È qua, eh? Fis. Vabbè, ficca. Questa mi sa che sei la clip, ho questa sensazione. Hai fatto tutto tu senza che io facessi niente. O ti ruberò solo il loot? Ci devono la prossima lobby. Sì, 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 sì. Ma cosa stai facendo? Ma la svegli di lootare? No, ti trovo il jetpack, così fai le giocate come prima. Se me la carri, guarda, volentieri ti la trovo. Faccio la ricerca a te. Dora. Guarda, aspetta. Fidati. Trastamela. C'è la cesta qua. Trastamela. Devi fare. Per trovare il jetpack, così. Narice sinistra, lanci la caccola. Narice destra, apri e... Fai... Vai. Ti ho trovato il jetpack. Però io non ho il jetpack, perché tu non fai una tecnica per... No, chicca, tre big e non li mollo, scusa, prendo. Scusami, ma devo farlo. È una questione proprio di giustizia celebrale. Pluricellulare, aziendale, economica. Microorganica. Arrivo. Alfredo no, Alfredo non serve, Alfredo dai, Alfredo basta, sono in spiaggia. Ok, scusa. Sono qui anch'io. Nissato, preso. C'è il jetpack a scarico. Corro su, ok, eccomi. Mi sa che l'hai ucciso, vè? Sì. Quindi mi sa che sono dei busher questi, eh? Qua, ce l'hai da lì. Merda. Caccato, che c'è? Sto correndo. Prego, vai, bianco. Sto spammando. Dietro l'albero. Caccato di nuovo. C'è uno qua. Sono qua da te? Ah. E' giusto che push, ragazzi, incredibile. Vieni qua. Questo qua lo distruggo, lo distruggo, chicca. Craccato. Craccato lo spider me. Distrutto di nuovo, one hit. Dove 26 white. Craccato la cuna, craccato la cuna, craccato la cuna. Noccata? Quasi morto? Fatto. Va bene così? Sì. Capo? E faiitavano qua con gli altri che sono andati verso destra? C'è Marti in bichini che tocca ai bambini. Oh no. E rilecca ai piti. Non credo di essere io quella per scuola Martina. Non penso. Arrivo da te. Craccato? Se mi muori, questo è il mio contro. Ok, quadruplo 26 anche lui. Blu. Ho già fiz. Eh, dovresti proprio sciolarlo, eh. No, perché ho paura senza di te. Che cuore hai? Che cuore hai? Ho big e fiz. Non big. Subito, capo. C'è un'altra macchina. Ah, che ha fiz. No, no, aspetta, aspetta. Mi sposto più sopra, chicca. Ho craccato uno dei due. Ok, uno dei due l'ho craccato. Dove sei tu? Ok. Qua fai Tano sotto. Ma hai l'impulso di uno, vero? No. Vieni qua. Questo qua l'ho craccato uno. Vieni qua, sotto. Knock uno. Ho fatto l'altro. Resta, resta, resta. Uno più, uno. Uno. Codo. 28. 28 ancora. 79 crack. Morto. Let's go. Pulita sta win. La gasata questa win. Oh god, 93. Chicca, 93. Meno 7. Let's go. Mi ha lasciato amarti lo scherbo lui, ragazzi. Se lo vuole. Buono, si splascia. Fai Tano davanti, fai Tano davanti. Buono questi da prendere, questi sì. Hanno fatto un cuore, hanno fatto un cuore. Hanno fatto un cuore. Non mi fido io. Eh, ho paura anch'io, chicca. Chi ha fatto il cuore, raga? Voglio vedere chi ha. Eh, come fai a scoprirlo? Non lo voglio sapere. Sono cattivi. Ah. Mi dava una mano. Eh, sto arrivando a te. Oh, che palle. Diciamo che l'avevamo detto, eh, di non andare... L'ho ucciso io uno, chicca. C'è uno v1. Ah, come l'hai ucciso? Eh, uno v1 sei. Ah, è f***o. Dimmelo, sono scappata io. Ma l'hai confermato o no? No. Questo chi ha? Questo è un altro, chicca. GG. Sono di mondo, chicca. Impulso via. Ah, impulso via, ma... Dai. Anche secondo me. Ok, avverti. Tanto c'hai... Impulso. Qua è buttato uno. Non è stato, eh? Via, 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 via. Via, chicca, via. Non ne vado. Ah, no, troppo tempo. Sarà sotto la scala, capito? Ho preso il jetpack, poi non lo troviamo più. Ma che vero, va. Se c'è qualcuno qua, potrebbero farmi un volo, eh? Salgo con la macchina. Sali pure. Arrivano. Sali, 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 sali. Vai. Esci, ti prego. 24. Ho da darti il jetpack, ma ho paura che droppandolo non lo prendi. No, andai, lo trovo via. C'è arrivato via. Non ci posso credere. Altri. Build, ma ciò che build. Andiamo di qua e prendiamo una macchina. Arrivano, ecco gli sneaky. Entra, 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 entra tu che ti servono alle armi. Dai, hardware lo metti. Non ne ho. Dimmi che li trovi. Sì. Arriva un altro team, Godo. Trovati hardware. Ho l'impulso, tanto. A post. Quando è me? 30. Mamma. Sì, vabbè, ma la gente toglie un casino, comunque. Dimmi che sei chill. Ciò appena te, forse? Ti chiudo. Non so se l'ho preso. Chica, io sto andando via. Sì. Lo spreio? Eh, mi sa che muoio. Uno di vita, uno di vita, uno di vita. Ok, chica, guarda la mia vita. Mi sto facendo mini. Te l'ho fermato come non mai. L'ho distratamente disintegrato. Andiamo un pochettino più stucked, eh. Oh, sono qua con la macchina. Sono andati. Altri con la macchina davanti. Impulso, non so se le vuoi. C'è una macchina che arriva verso di te, forse bianca. Ten up. Not ten. Sono qua. Te la spacco, ti spacco la macchina. Distrutti. 74, 75. Una di vita. Morto, no? Morto. Mamma, coi... Team, 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 team. Ho messo hardwall. Mi sono spostata dietro. Ok, li vedo, li vedo, li vedo. Sta rovinendo da te. Lo sto spammando. Piuttosto viene in back. Brava. 20. Sì, io arrivo con te. Sono qua. Ah, sì? Salgo? Qui tu sapeva. Questi... Qualcuno sa, chi c'è qua? Deci a curarti? Devo curarmi, sì. Mi curo anch'io. Posso fare un po' di pizza, se vuoi? Quanto? Tieni. Ti ho smezzato il mio legno e ti smezzo il mio ferro. Gicca, io ora ho 2,02, ok? Ci serve un refrescino. Vieni a destra, vieni a destra. Boxati, capito dove? Tra la linea, tra le linee. Lo siamo abbandonati già dopo. Ok. C'è un solo. Hai visto? Dove ho pingato e non vedo nulla? È il dato sulla sinistra. Non è che è un invisibile col medaglione? Qua da me è un solo. Distrutto, one hit, one hit, one hit, one hit. Chica. Ho fatto dopo 26 white. È morto, è morto. C'è uno che... C'è gente che poi gli entra. Il loot va lì. Ed è. Lei la viange, capito? Lì poi è safe. Ah no, cacca, dovieni. Aspetta. Hai capito? Vai. Là è safe, dovremmo poi andarci. Solo che c'è gente, chica, che stava entrando da fuori safe a ovest. Stavano entrando. No, 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 ma andiamo prima noi tanto. Guarda sempre dietro. Oddio. Roba in più, per me? Ottimo. Sì, è un top 3. Occhio che ti ho sparato, scusa il muro. Ci guarda, dai, quello là. Questa con delle madre un po'... Vabbè, ci scelgiamo l'impulso. Dobbiamo prendere l'hike, comunque. Sì. Tiz? Uno. Sì. Impulso e rimani a me andiamo in zona. Sì. Andiamo, i nag, vieni. I nag. Ma non sale più di così, chica. Ho bisogno, bisogno. Sono qua da te. Hai white? Aspetta che mi saranno. No, white no. Stanno attaccando, stanno timando questi qua. Stanno timando. Sì, lo so. Non stanno attaccando. Lo so, lo so, lo so, lo vedo. Lo so, lo so, lo so. Lo so, lo so, lo so. No, 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 big. Faccio questi 25. Devo andare avanti, a chicca. Va bene, sì, dai. Va bene, ci sta. Morti, nag, va diventata. Morto, 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 morto. Bravissima. Non ho cure, non ho cure, purtroppo. White? Quello non è white, suami. Quello te l'ho preso? White? Ho recuperato il kit, chicca. Sono... Te l'ho recuperato il kit, chicca. Lascialo. Eh, no, niente, c'è lui. Cristo. Oh mio Dio. Cheat. Ok, l'altro forse era sopra. Aspetta, ma. Cosa sta facendo, ragazzi? Oh mio Dio. Sei la più forte, let's go! Mi sapevo del c***o leccato la mia c***a. Mi dissocio, alzo le mani, censuriamo. Censuriamo. Ragazzi, per voi che starete guardando questo video dell'Unreal, è tutta la sera che ci stanno stream sniperando in live e finalmente abbiamo dato un c***o. Sacchio, così. Ce l'abbiamo, chicca! Let's go! Real! Ah, ruttino. Ah, io l'ho fatta inizio game e tu lo fai adesso. Best combo. Abbiamo la Real! Let's go! Ah, top mille tonda, chicca. Mille precisa. Signori, io spero che queste due partite vi siano piaciute, queste due vittorie reali insieme alla nostra Martina che ha fatto pure un clutch assurdo l'ultimo game. Che spettacolo! E vi posso dire ufficialmente che io e Martina siamo le prime due ragazzi ad aver raggiunto il Rank Unreal al mondo. C'è, che spettacolo! Lei per prima e poi subito dietro io. Veramente una grande soddisfazione. Fatemi sapere nei commenti il vostro Rank, mi raccomando non dimenticatevi di mettere un bel pollicione in su, iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Ora però vi comunico che siamo giunti al termine di questo video, quindi mi raccomando spolliciate, commentate come di pazzi, ci becchiamo in un nuovissimo video. Bella ragazzi! Ciao!